ciao amici conoscete tutti lo zenzero vero io squaletto ci facciamo sempre la tisana bravi e anche molti amici mi scrivono che usano lo zenzero ogni giorno a volte mi chiedono anche se fanno bene se si può bere ogni giorno se ci sono effetti collaterali quali sono i veri benefici di questa pratica si lo vogliamo sapere anche noi allora oggi vi spiego cosa succede al nostro corpo quando si beve zenzero ogni giorno se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 dimagrire forse è il beneficio più decantato dello zenzero ma è così miracoloso come dicono di miracoloso non c'è nulla ma lo zenzero aiuta a stimolare il metabolismo e il potere brucia grassi del corpo ed è un ottimo alleato per chi vuole dimagrire in modo naturale 2 antiossidanti il potere antiossidante dello zenzero deriva dal zingiberene una sostanza naturale molto potente che combatte radicali liberi infiammazione e acidificazione del corpo 3 digestione la iurveda consiglia di mangiare un pezzetto di zenzero fresco dopo i pasti per favorire la digestione grazie ai suoi effetti carminativi e anti gonfiore per chi non tolera il sapore troppo piccante va bene anche una tisana sul mio canale trovate diversi video su come usare lo zenzero in cucina per vederli tutti il modo migliore è iscriversi al canale è facile basta un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella per non perdere i nuovi video 4 termogenico aumenta e attiva il metabolismo per questo è utile nelle diete 5 depurativo favorisce l'eliminazione delle tossine da parte dell'intestino e della pelle amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra 6 anti fermentativo previene e contrasta il gonfiore della pancia 7 colesterolo alto usare lo zenzero ogni giorno aiuta a combattere il colesterolo alto perché converte il colesterolo cattivo ldl in acido biliare che il corpo può eliminare però è davvero fantastico la natura ci dà tutto se la usiamo bene lo zenzero è una spezia potente non a caso viene usata nella medicina ayurvedica ancora oggi come sempre se avete dubbi su interazioni con farmaci in caso di gravidanza o altre situazioni specifiche consultatevi con chi vi segue mangia zenzero e proteggi la salute